riforma sanitaria acquaroli oggi a pesaro per fare chiarezza da oggi casinina e auditore sono senza medico di base vigili del fuoco l'organico provinciale lamenta 37 defezioni carometano è il contratto a fare la differenza il turismo di carpegna punta sul bike park montefeltro buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale di rossini news canale 80 oggi è giovedì 14 luglio apriamo questa edizione parlando del confronto che è stato convocato oggi da parte della regione marche per fare chiarezza sulla riforma sanitaria che sarà approvata entro ferragosto vediamo nel primo servizio quanto emerso prima dell'approvazione della riforma sanitaria regionale che arriverà entro ferragosto 2022 il presidente acquaroli e l'assessore alla sanità saltamartini hanno deciso di iniziare un confronto con i territori regionali per cercare di spiegare i punti salienti la prima tappa è stata proprio pesaro che negli ultimi giorni proprio in vista della proposta di riforma fatta dalla giunta regionale aveva storto il naso con il sindaco ricci a lamentare un'eccessiva centralità sanitaria attorno ancona e un abbandono degli altri territori provinciali acquaroli però questa mattina ha cercato di chiarire come quello intrapreso dalla regione sia però un percorso conveniente sia per l'interesse pubblico che per i sanitari volto a garantire un miglioramento delle prestazioni contatto gli operatori della sanità di marche nord è emerso una curiosità un apprezzamento per la nostra iniziativa e tante tante proposte e un'interlocuzione che è sicuramente utile a noi per spiegare bene quello che è il cuore pulsante di questa riforma e a noi anche per raccogliere le proposte ma credo che sia stata molto utile anche per loro per cogliere lo spirito di questa riforma che è aggiungere più competitività e adeguare le aziende ospedaliere alla sfida che comporta l'anno che corre 2022 il rapporto l'interlocuzione tra l'ospedale e territorio è fondamentale è fondamentale sia per dare risposte immediate ma anche per costruire azioni di prevenzione e credo che la sanità debba sempre di più dialogare e farlo in maniera costruttiva il senso il cuore di questa riforma è proprio quello di voler mettere in campo maggiori risorse e ottimizzare quelle esistenti e non di togliere o addirittura di andare a dividere mobilità passiva centralità dei sindaci coinvolgimento dei cittadini e ammodernamento del sistema digitale come la telemedicina. Sono questi quattro i punti salienti della riforma sanitaria in questione che cerca di rispondere alle nuove esigenze che la società attuale necessita stando dunque al passo con i tempi. Noi intendiamo rafforzare la sanità della provincia di Pesaro Urbino proprio per dare tutte quelle prestazioni che oggi i pesaresi vanno a richiedere in Emilia Romagna ormai da oltre dieci anni quindi abbiamo confermato il potenziamento delle alte specializzazioni perché ci sono delle professionalità importanti. Abbiamo detto ai primari, a tutti i medici, a tutto il personale della sanità che la risorsa deve essere valorizzata appunto perché ogni professionista vuole una crescita professionale quindi abbiamo voluto garantire e sottolineare l'impegno della regione e dei prossimi investimenti sulla provincia di Pesaro. Nella legge 13 insieme al presidente Acquaroli abbiamo voluto che i sindaci avesse un ruolo straordinariamente importante oggi i sindaci non hanno neppure espresso un parere sul piano socio sanitario vigente nel futuro dovranno esprimere un parere sui bilanci preventivi, rendiconti, consuntivi, gli atti di programmazione e addirittura potranno esprimere un parere sul valore, sulla qualità e capacità dei direttori generali. Ho rimesso al centro anche l'importanza di avviare un processo di democratizzazione coinvolgendo i cittadini i quali potranno esprimere addirittura il grado di soddisfazione delle prestazioni, potranno dare le pagelle sostanzialmente ai servizi sanitari. E poi non per ultimo nella legge ho voluto proprio io porre nelle dirette responsabilità dei direttori generali, gli URPI, gli uffici di relazioni con il pubblico. Oggi se un cittadino chiama un ufficio sanitario non risponde nessuno. Nella visione, nella riforma ci dovranno essere delle persone che devono dare conto ai cittadini nei loro bisogni. Si conferma il trend di crescita dei contagi da Covid-19 nella regione Marche con 35.000 casi già notificati a luglio. Tanti quanti non se ne vedevano d'aprile. Va notato che più di 10.000 di questi casi si sono materializzati negli ultimi tre giorni con 3.424 contagi odierni che si aggiungono ai più di 3.000 di ieri e ai più di 4.000 di due giorni fa. Si ricorda che da due giorni è attiva la vaccinazione con quarta dose per gli over 60, solo su prenotazione. Sono circa 5.000 i marchigiani di questa fascia d'età che si sono finora prenotati. Tra i gravi problemi della sanità attuale c'è anche la carenza di personale fra i medici di base. Caso emblematico quello dei territori di Casinina e Auditore che fra pensionamenti e mancate sostituzioni da oggi vedranno 5.000 abitanti sprovvissi di questa figura medica. Ascoltiamo quindi a tal proposito il sindaco Daniele Grossi che confida nella disponibilità dei medici della vicina Sasso Corvaro. Visti i pensionamenti dei medici di base trovare i sostituti è una difficoltà che sta riguardando sempre più i comuni del territorio nazionale. Una carenza che vede colpire anche il comune di Sasso Corvaro Auditore che da oggi nelle frazioni di Casinina e la stessa Auditore si ritrova senza questa figura medica lasciando provvisoriamente scoperti circa 5.000 abitanti. Al momento succede che noi quest'anno abbiamo il secondo pensionamento dei medici di medicina generale che era qui sul nostro territorio, presente sul territorio e ad oggi non sono stati individuati dei sostituti. Però diciamo che al momento la situazione è sotto controllo perché abbiamo la disponibilità di altri tre medici che sono presenti sul comune di Sasso Corvaro Auditore quindi questi tre medici hanno dato la disponibilità ad accogliere anche i pazienti e gli assistiti dei medici che sono andati in pensione. L'ASUR ha allargato il numero di assistiti ai medici quindi superando i 1.500 pazienti a carico ad ogni medico. In questo modo a tutti i cittadini verrà garantito il diritto alla salute e quindi di avere un medico di medicina generale. Allargando il numero ai medici presenti, grazie alla loro disponibilità, riusciamo comunque a far fronte a questa emergenza garantendo comunque il medico sul territorio. Quindi io invito i cittadini anche come è stato comunicato dall'ASUR di recarsi presso il distretto di Macerata, Fentria o Urbino per individuare il medico sostituto. Nel frattempo stiamo lavorando quotidianamente con l'Area Vasta 1 e con l'ASUR Marche per cercare di individuare un nuovo medico sostituto dei pensionati. Ci sono buone possibilità, al momento l'ASUR ha contattato alcuni medici e sta lavorando per individuare il sostituto il prima possibile. Purtroppo non è semplice perché anche a seguito della pandemia molti dottori sono stati assunti in ospedale e quindi sono in servizio per gli ospedali ed è difficile. Gravi carenze di personale le lamentano anche i Vigili del Fuoco con il sindacato di categoria Wilpa che denuncia nella provincia carenze di almeno 50% fra il personale dei ruoli direttivi. Fra le figure di soccorso operativo mancherebbero invece 37 unità, alle 240 previste. 13 di queste mancano a Pesaro e altrettante a Urbino, 5 in meno a Cagli e altrettanti a Macerata Feltrea, oltre ad una defezione nell'organico di Fano. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni. Come sempre vi ringraziamo per i messaggi che costantemente ci inviate al numero di WhatsApp, al numero predisposto proprio alle segnalazioni. In questi giorni alcuni telespettatori hanno lamentato un costo eccessivo del metano nel pesarese rispetto ad altri territori nazionali. A tal proposito quindi siamo andati a ricercare il motivo. Il caro energia, l'aumento delle materie prime, l'inflazione e il calo del potere d'acquisto sono tutti problemi determinati da questioni belliche e geopolitiche. Il caro dei carburanti è una conseguenza che in Italia abbiamo potuto notare già dalla seconda metà del 2021 e oggi a seguito di alcune segnalazioni arrivate in merito alla differenza del costo del metano tra i diversi distributori d'Italia, siamo andati ad approfondire la questione in una delle numerose stazioni di servizio di Pesaro che vendono proprio questo carburante. 3,19 euro al chilo segna lo schermo a LED. La domanda che ci è giunta dal telespettatore era proprio questa. Perché il caro del metano interessa principalmente la zona pesarese, visto che in altre località come Rimini, Bolzano o Spoleto si arriva intorno a 1,80 euro al chilo? A fare la differenza è il tipo di contratto che si è stipulato con i fornitori, dunque variabile o fisso. La stazione di servizio pesarese in questione, avviata circa sei anni fa, si ritrova da quasi un paio d'anni con un contratto variabile, dunque con un prezzo di acquisto che dipende dalle variazioni del mercato. Attualmente sono costretti a tenere dei prezzi di vendita molto alti, visto che l'acquisto al cubo dello stesso carburante gli costa circa 2 euro. Con i costi alle stelle di fatto mette questa stazione di servizio con le spalle al muro per quanto riguarda la vendita del metano, ma per loro fortuna non sono monocarburanti, disponendo anche della vendita di benzina e diesel, oltre ad avere un bar tabaccheria. Chi ha scelto invece un contratto fisso nelle forniture, al posto di quella variabile, gli permette ora di vendere il carburante a meno di 2 euro al chilo, visto che il prezzo dipende dalle forniture ancorate ai costi precedenti rispetto a quelli attuali. Il problema però incomberà anche per loro, visto che tra qualche mese, quando gli scadrà il contratto fisso e in tutta Italia non sarà possibile rinnovare, le stazioni monocarburanti saranno costrette a chiudere, non riuscendo a recuperare le perdite con altri servizi offerti. Per benzina e diesel è invece un discorso a parte. I costi non sono dettati da alcun tipo e forma di contratto siglato, ma bensì dalla vendita che il camion di rifornimento impone periodicamente alle stazioni di servizio. Quella legata al metano è una situazione che, a detta del gestore della stazione di servizio con il quale abbiamo chiacchierato, potrebbe cambiare da un giorno all'altro, senza dare certezze né ai proprietari dei distributori di carburante né quantomeno ai proprietari dei mezzi. Ed ora parliamo di turismo perché sta per arrivare una grande infrastruttura turistica per Carpegna e i comuni del Parco Sasso Simone Simoncello. Si tratta del Bike Park Montefeltro. In questo prossimo servizio il sindaco di Carpegna, Mirko Ruggeri, ci sottolinea i benefici che porterà alla comunità montana. Il turismo del Parco Sasso Simone Simoncello vede il traguardo del Bike Park Montefeltro. L'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, mercoledì a Carpegna, ha infatti ribadito l'investimento di 1.200.000 euro della regione Marche che vedrà realizzato un felice connubio fra sport e turismo con 8,5 km di tracciato, 5 trail per varie discipline bike e un pump track. Strutture destinate al cicloturismo che interesseranno i territori di Frontino, Pian di Meleto, Belfort e Lisauro e soprattutto Carpegna che sarà il cuore pulsante del park. Chiaramente dovrebbe essere un valore aggiunto per tutto il comprensorio del Monte Carpegna e dei paesi del Parco Naturale del Sasso Simone. Chiaramente Carpegna, che è la sede sia del Parco Naturale che il comune che più ha importanza nel comprensorio del Monte Carpegna, sicuramente ne esoverà in maniera ancora più grande degli altri paesi. Si va nella prospettiva di aumentare quelli che possono essere i servizi per i turisti. Chiaramente il settore sport è uno di quei target che interessa di più e che tra l'altro sono in espansione e attirano e attraggono l'interesse dei turisti. Oggi giorno insomma andare in vacanza molto spesso e fare esperienze e sicuramente quelle che possono fare sul Monte Carpegna nei sentieri e nei percorsi del bike park è un'esperienza molto molto bella. Ciclisticamente parlando per Carpegna si tratta dell'avvicinarsi al traguardo di una lunga scalata organizzativa anche a livello amministrativo. È un'idea che nasce proprio dalla cittadinanza di Carpegna e del comprensorio. Quindi loro hanno lanciato l'idea che è stata sposata dall'allora presidente del parco naturale del Sanso Simone, Guido Di Salucci, che ci ha subito creduto e hanno presentato un progetto iniziale alla Regione Marche, alla ex giunta della Regione Marche, la giunta Ceriscioli e diciamo che è piaciuto, il progetto è piaciuto perché sicuramente era un modo di valorizzare l'entroterra molto molto appropriato e quindi sono state trovate già le risorse nella passata legislatura. L'attuale legislatura ha nuovamente sponsorizzato questa situazione ritenendola fondamentale per lo sviluppo dell'entroterra e quindi l'attuale assessore Francesco Baldelli si è dimostrato subito pronto a raccogliere l'eredità della precedente giunta e quindi si è arrivati a questo punto a realizzarlo perché a breve verranno affidati i lavori e poi realizzati in modo che nel 2023 possiamo appunto sfruttare questi percorsi per il bene del territorio, per le strutture ricettive e turistiche del territorio. Il Comune di Vallefoglia ha approvato il progetto esecutivo per l'installazione degli impianti di ventilazione controllata presso le scuole dell'infanzia Regina Reginella di Montecchio che comprende sei aule didattiche e il girasole di bottega con oltre otto aule. Questo intervento garantirà ai bambini e agli operatori scolastici maggiore sicurezza in quanto i nuovi impianti di ariazione ridurranno quasi totalmente le particelle infette nell'aria diventando un efficace strumento per contrastare il contagio da Covid-19. Per l'intervento sono stati stanziati 90.000 euro di cui 56.000 finanziati con fondi regionali e 34.000 con fondi del bilancio comunale. Da Vallefoglia ci spostiamo a Candelara perché l'orologio alle porte del Borgo Storico è fermo da maggio. Lo denuncia Michele Redaelli, consigliere comunale di Forza Italia, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire al più presto per rimettere in funzione il sistema settecentesco di ingranaggi, funi e contrappesi che è di fatto il suggestivo biglietto da visita all'ingresso di Candelara. È partito un nuovo anno sociale per il Lions Club Pesaro della Rovere che al ristorante Il Castiglione di Pesaro ha ospitato la Charter Night con il tradizionale passaggio della campana del Lions Club Pesaro della Rovere. Una presidenza che per l'anno 2022-2023 passa da Cristina Marinelli a Chiara Cacciaguerra. Ed ora andiamo a scoprire il secondo appuntamento dedicato al Teatro Dialettale in programma questo weekend all'Arena BCC di Fano. Tornano a riaccendersi i riflettori sull'Arena BCC di Fano per il secondo appuntamento della rassegna dialettale Teatro Sotto le Stelle che vedrà andare in scena la compagnia Jarchaplat con due storici spettacoli. Promemoria ha fissato dunque a venerdì 15 per quella che è la seconda data in calendario di un ricco programma organizzato dalla polisportiva Tre Ponti in collaborazione con il Comune, la Proloco di Fano e con la Regione Marche. Questa di quest'anno per la rassegna dialettale di Tre Ponti la nostra è una novità in assoluto. In assoluto perché il gruppo è molto giovane, giovane di età e giovane di formazione perché sono nati nel 2019, poi c'è stata la pausa del Covid quest'anno abbiamo ripreso la nostra attività e per la prima volta saremo qui a Tre Ponti e quindi per noi è un grande traguardo essere qua, in mezzo ai grandi perché l'età media dei nostri attori è sui 16, 17, 18 anni. Noi abbiamo stravolto un po' tutto, non facciamo una commedia sola ma ne facciamo due la prima è le presentazioni che sono un po' così datate sono di Francesco Iacucci tutte e due, uno signore che scrive le commedie qui di Fano e rappresenta un po' quelle che erano le presentazioni delle due famiglie dei due fidanzati cioè si riunivano in una casa per fare conoscenza e poi la conoscenza è stata un po' troppo conoscenza e per capire come va a finire dovrete venire il 15 di luglio che è un venerdì qui a Tre Ponti l'altra commedia è La Bendizione La Bendizione qual è? È quella che il prete viene da poco prima di Pasqua va in tutte le case con il chierichetto e porta la benedizione e purtroppo gli capita di andare un po' in tutte le case c'è chi lo accoglie benevolmente e c'è chi invece lo accoglie un po' meno benevolmente e anche qui ne vedremo delle belle e concludiamo con una notizia che riguarda lo sport e con un nuovo acquisto della Vispesero che ha annunciato oggi l'ingaggio del giovanissimo attaccante classe 2003 Destini e Gareba della Fiorentina un giovane di prospettiva che nella scorsa stagione si è messo in luce con 5 gol su 26 presenze con la squadra Primavera Viola Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale però vi vado ad annunciare subito quella che è la programmazione per questa sera e anche per i prossimi giorni Questa sera alle 21.20 vedrete l'impresa finale cioè la parte finale della grande impresa che ha portato avanti Zico Pieri, Alte Marche Unlimited sul Monte Petrano e a Cagli quindi veramente un racconto di conclusione di un grande sforzo che ha fatto questo grande atleta Domani torna la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 diretta sul canale 80, diretta sulla nostra pagina Facebook diretta sulla nostra applicazione e diretta anche in streaming sul nostro sito quindi tantissimi device per seguire la lettura dei titoli dei quotidiani locali con Daniele Sacchi Vi ricordo che domani è venerdì alle ore 17.30 torna alla lettura il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco Di Giorgio E sempre nella giornata di domani venerdì alle ore 19 e replica alle 22.30 arriva una nuova puntata di Vox Pop abbiamo chiesto ai pesaresi se sì, soprattutto ai commercianti pesaresi se si stanno allineando al post obbligatorio e domani sera su Rossini TV in esclusiva proprio sulla nostra rete avrete la possibilità di vedere alle 21.20 Notte in Moda la sfilata organizzata dalla scuola Arte Moda che è avvenuta il 3 luglio all'Anfiteatro Rastat non perdetevi questo bellissimo spettacolo bellissimi vestiti creati proprio da questa scuola di moda le repliche sono domenica e sabato grazie mille per averci seguito come sempre e buon proseguimento di serata